C'avevo già fatto qualche video in passato e diciamo che non ne capivo niente. Bene non ne capisco niente anche tutt'ora E ciao a tutti ragazzi sono Lorenz Brawl Stars Eh cos cos Ragazzi oh mio dio ci siamo tornati Si ho solo 277 coppe ma non vi preoccupate diventeremo dei pro gamer Allora Chi dà il mazzo Iniziamo subito già ho più o meno capito come funziona il giochetto Intanto andiamo nel negozio e andiamo un attimo a prendere ste casse Cassa gratuita facciamo subito la cassa gratuita ti prego No mona che se ne frega delle mona Ecco Nita Nita e non posso farci niente con Nita Colt colt già ci siamo perfetto Il mio personaggio preferito lo adoro un sacco lo adoro un casino Adesso vediamo quello che dobbiamo fare Raro brawler 19 gemme Vabbè raga chi se ne frega andiamo a vedere i nuovi eventi Allora raffa gemme Sopravvivenza E ricercati Direi di farci una partita con raffa gemme Però quale brawler scelgo Posso migliorarlo Vai miglioralo Allora ci andiamo con il bombardino Va bene Gioca Tra l'altro sto giocando con mouse e tastiera Quindi se farò schifo È colpa di mouse e tastiera Pronti brawler Facciamo l'inferno Io sono bombardino Quindi agitata Agitata di distanza Mi nascondo dietro il fungo Potete anche morirci Allora Allora ti do questo Se ti va Tanto tu prendi Tu prendi gemme Raffa gemme Modalità raffa gemme Siamo 4 verso 1 Maledizione Mi ha tolto un sacco Oh 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 muori Kill Tecca Sopravvivi Sopravvivi Lo so che puoi 52 di vita Cosa stai dicendo mai Morto Grande Prendi ste gemme Prendi ste gemme ho detto Grazie Perché io sono diciamo un supporter Quindi in teoria dovrei stare lontano dai guai Basta solamente Mi ero un pochino di bomba a questi tizi Mamma mia raga Sono assai Sono assai 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 Sta vincendo la scuola rossa Ma raga Qua la perdiamo Qua la perdiamo Ah Ti prego No uccidetelo Uccidetelo Uccidilo No Maledetto tu che nove gemme Come ricominciare dopo messi a giocare a Brawl Stars Non ti preoccupare bombardino maghetto Ce la possiamo fare Sto migliorando Sto migliorando Però se la squadra non Non fa le cose Come posso vincere da solo Per quanto io possa fare supporter Non potete solo contare su di me Cioè porca miseria Così scarsi siete Noa Noa Tu vai troppo All'attacco Ma secondo me E noa che ci fa perdere Secondo me sì Vai Uccidi Uccidi Come sono morto Non l'ho capito Ah C'è Bull dietro Ho capito Ecco perché Vai Tutti mie Mamma mia Che strage Che ho fatto Che cazzo Ora vinciamola Questa Dietro ai funghi Nasconditi dietro ai funghi Ma perché dovete attaccare solo a me Ma salvatemi Aiutatemi Che cre... Eh Vittoria Perfitto Oh Grado 4 Grazie Via 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 Non gioco più con questi Fanno schifo Ma non recensire Basta Allora Se voglio arrivare a 300 trofei Devo andare per forza A utilizzare bombardino Perché se no se perdo i trofei Li vado a perdere appunto Sì sì Io sono pronto per un altro Allora Iniziamo così Oh Non iniziate a fare Ste cavolate così Ma perché sono Tutti più forti di noi Ma che Matchmaking è questo Scusate Ti è mori Grazie Meno male Volca miseria Ok Prendite Prendite ste gemme Prendite Quello ha 4 gemme Prendite ste gemme Dai che l'ho ucciso Wow Ma che l'ho ucciso tutti Triple kill L'ho ucciso tutti Ho fatto carneficina Vive funghi Nasconditi dietro i funghi Se serve Non l'uccidere mai Ma aiuto Ma aiuto Che fate così Aiuto No 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 Mi ha caricato Mi ha caricato Mi ha caricato Ed è pure morto Dai dai Controllare Controllare Ti prego Non morire Ti prego Non morire Ok vai vai Con la mossa Con la ulti 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 Sono salvo Per miracolo Posso sopravvivere Ora Prendite qualche gemma Non rischiare la vita Lorenz Non rischiare la vita Ora si che la rischi La vita Non rischiare la vita Non rischiare la vita Non rischiare la vita Non rischiare la vita Quante kill sto facendo Ok questa l'ho fatta io Però vabbè Ho visto Non so che sei là Deve morire Ok Pari Pari Ce l'ho qua Sono l'unico Con più gemme Grazie per le cure Io mi nascondo Miglior giocatore Ma cosa Vabbè dai Ci sta Ci sta Ci sta Dai un'altra Un'altra Che bello Che bello Tutti colt L'ho visto Tu palmero Simon Tutti colt Sono Gesù Ciao Gesù Allora Facciamo così Io colt Ti voglio bene Ma tanto Noi tutti sappiamo Che sei l'unico Che ha la vita Più bassa Insieme a Ovviamente Support Cioè Borbandino Però Ma niente Non c'entra nulla Questo Non c'entra nulla Dobbiamo fare kill Dobbiamo Milacoli Come è morto Queste gemme Sono mie Ok mi sa Che questo colt Vuole essere Ucciso Colt TBB colt Prendete 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 Le gemme Ok Mi sa che Loro pure Hanno un bombardino Proprio Un cacchiatino Sono troppo Famili Friend Scusate Allora colt Però la devi Finire Sono morto Lo sapevo Ovviamente Chi è andato Uccidere Quello che ha Più gen Meno male Che c'è Gesù Meno male Ti salvo io Le chiappe Gli ho fatto Da scudo umano Bravo Gesù Grado 5 Oh raga Mi sta piaciuto Un sacco Direi di fare Altri Big match Con che musica Me lo sta dicendo Peppino Bravissimo Ti è piaciuta Questa Ora tocca a te Mamma mia C'è quello che segue Allora facciamo così Ti è piaciuta? Colt? Dai che le kill Le sto facendo tutte io Con un personaggio Che è un senso Peppino Tu sei bravo Oddio Certo che attaccano me Sono quello che ha più Oddio No vabbè È un mito Come me la sto giocando Provate ad ammazzarmi Io ho le persone Che mi parano le chiappette Ok Yes Good Yes Posso fare Un super mega Hyper kill Yes Va bene Va bene Ne veniamo così E abbiamo vinto Vittoria E kill Se non sono Il migliore Adesso Ovviamente Grazie Preco Quante coppe? 300 Si Ragazzi Si livella molto facilmente Devo dire Cassa Cassa brawl Poi Gemme Si Dimmi che ce la posso Ma perché Di una Va bene Ok ragazzi Che vi posso dire Direi che il video di oggi Lo posso anche Terminare qua E mi sono divertito un sacco A giocare sta roba E niente Ragazzi Mi raccomando Vi invito Di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Se volete altri video Su brawl stars Scrivetelo sotto Nei commenti E soprattutto Lasciate un pollice In su Link delle nuove Magliette Sotto in Iscrizione E noi Ci rivediamo Ad un prossimo Video E... Ciao Ciao